Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, la ricchezza e la superbia inducono facilmente a confidare nell'uomo e nelle risorse umane, dimenticando Dio, e da questa dimenticanza deriva tutta la nostra infelicità. Per bocca del profeta Geremia, nella prima lettura di oggi, Dio dice Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno e dal Signore allontana il suo cuore. I sostegni umani spesso vengono meno, solo il Signore è una roccia che non muta e il Signore permette che questi sostegni umani vengano meno per portarci a confidare in Lui. Al contrario, si legge nella prima lettura di oggi, Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore e sua fiducia. La fiducia in Dio è la più grande forza che abbiamo. Tutti noi sappiamo che Dio è onnipotente, ma la nostra fede della sua onnipotenza è molto teorica. Sì, sappiamo che Dio può tutto, ma concretamente, per quanto riguarda noi, dubitiamo. Dobbiamo invece credere che Dio può tutto per ciascuno di noi singolarmente preso. L'unica cosa che possiamo fare, di fronte alle tante difficoltà di questa vita, è quella di essere umili e di confidare in Dio. L'umiltà senza la confidenza deprime gli animi. La confidenza senza umiltà sforcia nella presunzione. Umiltà e confidenza devono stare sempre insieme e saranno la nostra forza. Con esse supereremo tutte le difficoltà della vita e di difficoltà ce ne sono tante in questo periodo così anomalo. Come ho detto prima, certe volte Dio permette che tutti i sostegni umani vengano meno. Tutto ciò in cui confidavamo si sgretola sotto i nostri piedi e noi siamo obbligati a fare una scelta. Disperare oppure confidare maggiormente in Dio. Le anime fidenti, ovvero le anime che confidano pienamente in Dio, sperimentano che quanto più si è lontani dagli aiuti umani, tanto più si è vicini all'aiuto divino. Fiducia nella preghiera dunque. Il libro del Siracide dice non mancare di fiducia nella tua preghiera. Il demonio mira proprio a questo, a farci perdere la fiducia nella nostra preghiera. Tante volte infatti preghiamo ma dubitiamo e diciamo dentro di noi, tanto non cambia nulla. Da una parte abbiamo dunque la fiducia in Dio e quindi nella preghiera e dall'altra parte abbiamo invece la fiducia nell'uomo e nei mezzi umani. Nel Vangelo di oggi ritroviamo questi due atteggiamenti. Da una parte abbiamo il povero Lazzaro, la cui unica ricchezza era la fede in Dio. Dall'altra parte abbiamo il ricco che confidava unicamente nelle sue ricchezze chiudendosi nell'egoismo. Dobbiamo come Lazzaro avere fiducia in Dio e dobbiamo avere fiducia anche nell'intercessione dei servi di Dio, ovvero i Santi. E tra questi Santi, dopo la Madonna, dobbiamo avere una fiducia particolare in San Giuseppe che è stato definito come il Santo della Providenza, ovvero il Santo che intercede efficacemente per le nostre necessità. Nell'Antico Testamento si legge che in tempo di carestia a chi domandava di che mangiare il faraone diceva andate da Giuseppe. Il patriarca Giuseppe era diventato il sovraintendente dei beni del faraone. Chi domandava qualcosa al faraone doveva rivolgersi a Giuseppe. E così, e molto di più, chi necessita di qualche grazia deve rivolgersi a San Giuseppe. È come se Dio dicesse a ciascuno di noi, andate da Giuseppe. San Giuseppe aveva nelle sue mani i tesori più preziosi di Dio, ovvero Gesù e la Vergine Maria, e così ha nelle sue mani le grazie di cui abbiamo bisogno. San Giuseppe è invocato in modo particolare per la casa, per il lavoro e per il pane quotidiano. Ci sono stati dei Santi che sono stati particolarmente fiduciosi nell'intercessione di San Giuseppe. Uno di questi è stato San Luigi Orione. Egli stesso racconta Agli inizi, in momenti in cui non avevamo pane, non avevamo niente, fu San Giuseppe a venirci incontro. Però solo quell'anno pareva che il caro San Giuseppe non volesse venirci in aiuto. Venne infatti il mese di marzo ed eravamo in grande bisogno di denaro. Momenti molto penosi e ci raccomandavamo molto a San Giuseppe, che è invocato come amministratore, meglio, come provveditore delle case, così come fu provveditore della Sacra Famiglia. Invece di venire gli aiuti, venivano i creditori a farsi pagare. Io non me ne potevo proprio liberare. Un giorno eravamo proprio senza niente. Si era all'antivigilia della festa di San Giuseppe. Il portinaio viene su di corsa e mi dice, c'è un signore che vuole parlarle. Ma chi è? È un creditore? Non lo conosco. Scendo le scale in fretta e mi trovo davanti un signore modestamente vestito e con una barbetta bionda. Quel signore mi dice, lei è il superiore? Qui c'è una somma. E tirò fuori una grossa busta. Allora gli chiesi se dovevamo dire delle messe. C'è qualche beneficenza da fare? No, no, rispose. Non c'è niente. C'è solo da continuare a pregare. Io non l'avevo mai visto. Mi guardò un istante e salutandomi con un inchino se ne partì in fretta. Avrei voluto trattenerlo, ma quella presenza e quelle parole mi avevano come incantato. Quel signore fece alcuni passi, uscì dalla porta, scese il gradino, ma poi non lo si vide più. Si mandarono immediatamente due ragazzi in cerca di lui, ma inutilmente. Venne poi Monsignor Novelli e gli si raccontò ciò che era successo. E gli disse, è San Giuseppe, è veramente San Giuseppe che ha voluto confortarvi. Noi in verità sempre si credette che fosse San Giuseppe. Questo fatto sia tramandato sempre in riconoscenza San Giuseppe per quella provvidenza straordinaria. Così termina la testimonianza di San Luigi Orione. Confidiamo dunque in San Giuseppe e non resteremo delusi. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti